Sì, 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 sì Può essere vero, però io non mi è mai capitato di comprare un maglione È uscito un suono antico, familiare, come l'urlo dei manicoli, il rombo dei cavalli Te ovviamente il crampo dello scrivano non ti dire mai, perché non scrivi più Saluti e baci L'arte è una strada a doppio senso Il cambiamento è una scelta individuale, ma un processo condiviso Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.